Mi chiamo Luigi Prosperi, non sono bolognese, sono nato a Peso nel 1947, sono arrivato a Bologna a 18 anni, questa città straordinaria è quindi diventata la mia città perché qui ho trovato tutto e ho fatto tutto, nel senso che mi sono laureato, ho trovato lavoro, mi sono sposato, ho fatto figli, ho fatto carriera, mi sono impegnato sia politicamente che in impegno sociale e nel volontariato. Ho fatto il medico del soccorso alpino e speleologico per 20 anni e quindi ho cominciato anche ad occuparmi di Africa, ho iniziato in Africa nel 1969 come studente e poi ho continuato in tanti paesi, soprattutto in Camero, in Tanzania, in Eritrea e in Kenya. In Eritrea abbiamo un programma con l'Unicef e in Kenya abbiamo costruito un piccolo ospedalino dove vado regolarmente. Io credo che la solidarietà rappresenti uno degli elementi fondamentali dei valori dell'uomo. Solidarietà che in questo momento vuol dire impegno verso i più deboli, verso i vulnerabili, verso gli sfortunati, verso la nuova povertà, verso i bambini non accompagnati. Ecco, sotto questo aspetto, anche se la Giunta Mera l'ha fatto tantissimo, io credo che si debba fare ancora di più, ancora di più perché l'emergenza di queste aree senza frontiera stanno incrementando. Allora, considerando la mia esperienza, la mia storia, la mia attività, io credo che possa essere sia utile che utilizzabile nella lista che l'amica Amelia sta proponendo per il Comune di Bono.